Buongiorno a voi. Oggi è giovedì della quarta settimana di Quaresima. Guardate questi bellissimi fiori. Appena dieci giorni fa non c'erano e sono belli nella loro semplicità, nel loro colore e in un profumo delicatissimo. Io penso che ognuno di noi è come un fiore. Ma questo fiore ci sarebbe aperto se non ci fosse stato il sole e io penso ma io ogni giorno non ho un sole che mi fa aprire alla vita, alla bontà, alla bellezza, alla vita quotidiana. Sì, il mio sole è Dio. Lui mi dà il colore, lui mi dà il profumo, lui mi dà il gusto della vita. È la fede che trasforma la mia vita in fiore. Lo auguro a me, lo auguro a te, che la tua vita diventi ogni giorno bella, aprendosi al sole di Dio. Ciao a tutti, buona giornata.